è proprio un luogo di accoglienza quindi vi invito a guardare veramente la situazione qui vediamo il canto del posto solito a sinistra e all'interno come vedremo c'è ancora stata mantenuta la vecchia torre di raffreddamento dell'azienda che permetteva serviva a raffreddare l'acqua che veniva utilizzata per fare funzionare e la torre è negli anni 50 1450 1950 edifici moderni nel giro e il giro di raffreddamento è un grande stradillo della ricoglia